Giulia Ciarapica, Francesco Ricatelli e Flavia Capone hanno letto il libro di Fulvio Abate. Cominciamo questa volta da Flavia. Capone, Flavia. Allora, sicuramente le pagine servono a contenere una struttura complessa, molto ricca, che contemporaneamente e ironicamente costruisce e demolisce questi personaggi. È come se noi avessimo nella testa continuamente l'autore che ci dice guardate che questi sono veramente dei taccuini vuoti. Mi è piaciuta molto questa definizione perché la trovo molto applicabile anche a tante persone nella realtà di tutti i giorni. È bello celebrare la mediocrità, cioè leggerla celebrata, perché secondo me ci permette di avere consapevolezza maggiore su ciò che ci circonda.